Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a recensire il lancio gravitazionale, fucile ad impulso esotico aggiunto in Destiny 2. Inizio con il dire che quest'arma non mi ha fatto una bellissima impressione a primo impatto, infatti quando l'ha presi per la prima volta da Asher Mir durante la storia su io, l'arma non mi piace per niente, oggi però riprovandola devo dire che mi sono ricreduto. Questa che andrò a fare è una mia ipotesi ma penso che questo cambio di opinione sia dovuto al fatto che fino adesso ho praticamente solo usato l'ala della vigilanza come impulsi che diciamo è un impulsi un po' particolare dato che spara una raffica di 5 colpi, rigiocando quindi dopo circa 2 mesi con il lancio gravitazionale devo dire che quest'arma mi piace veramente tanto. Per quanto riguarda il PvE è un impulsi quindi a mio parere non è un'arma perfetta per il PvE ma devo dire che può essere molto forte in quanto una raffica in testa ai nemici che possiamo comunemente trovare sui pianeti li uccide. La differenza l'ho notata particolarmente nel PvP in cui l'arma è veramente veramente molto buona. L'impatto dell'arma in sé non è molto alto, infatti è più basso di quello dell'ala della vigilanza che però spara una raffica di 5 colpi e quindi infligge al nemico un danno totale maggiore. Se però l'impatto generale del lancio gravitazionale è abbastanza basso, l'abilità ci fa subito dimenticare questa piccola pecca. Infatti l'ultimo colpo squarcia lo spazio-tempo causando al nemico un gran numero di danni in più. Per intenderci l'arma in crogiolo fa un danno medio di 5 al corpo e di 8 alla testa, mentre l'ultimo colpo della raffica fa un danno di 33 al corpo e di 57 alla testa. L'ultimo colpo del caricatore fa quindi più di 6 volte di danno rispetto agli altri. In generale l'arma ha una gittata molto alta, una cadenza di 360 colpi al minuti e un caricatore di 39 colpi. La sua abilità però si riflette anche sul rinculo, in quanto i colpi normali hanno un rinculo quasi inesistente, mentre l'ultimo colpo, quello che infligge più danni, ha un rinculo decisamente molto elevato. Sparando quindi una raffica il rinculo arriverà alla fine. Descritto in questo modo il rinculo può un po' spaventare, ma devo dirvi che vi ci si abitua molto velocemente. Quella che vedete infatti è la prima partita che ho giocato in crogiolo dall'ultima volta che ho provato l'arma, ovvero due mesi fa. In conclusione quindi penso che l'arma sia molto buona, magari accompagnata da un'arma molto efficace dalle corte distanze, quale l'ultima speranza o un fucile automatico con poca gittata. In ogni caso vi consiglio di usarla maggiormente in pvp che in pve. Quindi ragazzi se il video è piaciuto lasciatela e commentate, condividetelo. Ci saranno tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo questo in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Mia!